Un grande imprenditore, un grandissimo uomo di sport che ha fatto benissimo nel calcio e ha fatto bene anche al ciclismo e a tante attività. È una persona molto low profile ma che faceva le cose, le faceva bene. Era bello quando uno dei suoi detti era famiglia povera, azienda ricca, perché era una persona che non sottraeva risorse all'azienda ma che invece investiva, reinvestiva e ha fatto un'iniziativa mondiale di grandissimo successo. Senza di voi il futuro adesso suono? No, di questo sinceramente non so, credo che sono cose che sinceramente non saprei dire. Lui certamente ci ha tenuto tanto a Sassuolo, l'ha portato dalla serie D, dove era, fino alla serie A, facendo molto bene.